Venerdì alle 20.30 abbiamo ospite in studio per più a fondo Marta Stoker, una donna con i fiocchi, una donna che si autodefinisce uno stambecco perché come lo stambecco è forte, come lo stambecco impegna le corna quando è necessario. In replica più a fondo lo stambecco sabato alle 15.30 e alle 23.25.